L'idea soprattutto credo che sia emozionale, sull'onda dei ricordi, delle emozioni di quelli che sono stati gli anni 80, gli anni favolosi che ci ricordano, ci evocano tante storie, tanti personaggi, come non ricordare i mondiali dell'82 per esempio, il nostro Papa oppure il nostro Presidente, Pertini. Quindi sono tutte quelle immagini, quei nostri ricordi che ci hanno portato fino ad oggi a una certa età, questa età che comunque nell'onda della nostalgia abbiamo voluto rievocare proprio nella zona qui del litorale fanese per riportare tutto quello che è stato prima dell'avvento dell'informatica, dell'online, del www. E da lì poi riproporre tutto quello che è la musica, le auto eccetera eccetera. La madrina della manifestazione un po' è già stato spoilerato, sarà Cristina D'Avena che sarà con noi la prima sera e farà il taglio del nastro. La sera successiva avremo ospite Francesco Baccini e la domenica invece sarà tutta dedicata a Vasco con ospite il saxofonista di Vasco che è Andrea Innesto ma anche con un momento sportivo importante con Totò Schillaci. Ma non è tutto qui, è musica di grandissimo livello, ci sono musicisti, band che vengono da tutta Italia, c'è una band meravigliosa che viene da Bari, ci farà rivivere tutti gli anni Ottanta, ci sarà sul palco Luca Vagnini che ci intrattiene col famoso karaoke anni 90 di Piazza che insomma tutti ci ricordiamo condotto da Fiorello. Noi l'abbiamo affidato al grande Luca Vagnini, cantautore fanese conosciutissimo e ci saranno i Catch the Giant, ci sarà Asia che è una rivelazione, una ragazza molto giovane che ci farà rivivere la versione moderna dei brani degli anni Ottanta. E quindi tantissima musica ma non solo, la zona party dove comunque come l'anno scorso insomma gestita con l'intrattenimento dei DJ set e ben 14 installazioni fisse da Star Wars alle auto, dalla macchina del cinema, quest'anno ospiteremo a Zard quindi avremo il generale lì, a tutti i personaggi di quell'epoca, al ristorante, la novità di quest'anno è un ristorante tutto dedicato alle specialità degli anni Ottanta, tanta arte quindi sia cinematografica con anche un grande ospite che è l'attore Giorgio Vignali che verrà a portarci Sapore di Mare che quest'anno compie 40 anni e che altro dire la mostra dedicata a Enzo Sciotti curata da Andrea Giumaro con dei pezzi inediti donati proprio dalla famiglia che Enzo Sciotti è mancato un paio d'anni fa, la realtà virtuale, novità di quest'anno, insomma tantissime cose che dovete venire a scoprire sul percorso. L'anno scorso abbiamo fatto due giornate sabato e domenica, quest'anno partiamo dal venerdì, quindi venerdì, sabato e domenica ma con un'anteprima addirittura il giovedì, quindi dal giovedì già avremo delle anteprime e poi avremo tre giorni di pura manifestazione. Fano che si attrezza come siamo abituati ormai da diversi anni a vivere un'estate intensa con tanti eventi, tante iniziative di alto livello e Boomerang ne è una conferma alla sua seconda edizione quindi mi verrebbe da dire buona la prima perché ha avuto tanta partecipazione con ospiti illustri che riguardano un po' quel periodo dalla musica al calcio alla radio, quindi grandi protagonisti ma è Boomerang un evento anche per immergersi in quegli anni divertendosi. Un'altra grande manifestazione, una settimana fa circa eravamo qui a tagliare il nastro nella zona del Lido, oggi siamo qua con un'altra grande manifestazione che richiama gli anni 80-90, una bellissima dia di on stage ma in realtà di tutti gli esercenti del Lido che collaborano con una serie di aziende, una serie di associazioni culturali che vanno veramente ringraziati perché fanno una vivacità culturale enorme, però ecco in questo weekend arrivando qui nella zona del Lido, Porto e Arzilla una serie di eventi e attività che richiamano gli anni 80-90 quindi possiamo trovare videogiochi, tornei di subuto piuttosto che personaggi e spettacoli importanti quindi musica tutte le sere in varie zone del Lido ma anche la presenza dell'Eterna, Cristina D'Avena, la presenza di Baccini, la presenza di Totò Schillacci, insomma sarà un altro bellissimo weekend da vivere nella città di Fano.